Buon di ciao a tutti i mercati ancora ancorati in trend ribassista, che cosa sta succedendo sui mercati lo andiamo a vedere, facciamo un po' il briefing di questa fase, ne avevamo già parlato lunedì quindi sapevamo un po' che il trend ribassista sarebbe continuato anche in questa settimana, siamo vicini alla scadenza ciclica di cui vi sto parlando dall'inizio del mese da quando quel famoso 16 di novembre il mercato ha breccato un livello importantissimo e ciao ciao ai sogni di gloria per fine anno, tutto purtroppo in questo caso è andato secondo quei piani lì e quindi tutta la fase del trend ribassista sta continuando, siamo vicini alla scadenza ciclica del 20 di dicembre ma ancora poi dopo quella scadenza ciclica potremmo ancora continuare a soffrire per un mesetto, dovremmo stare a vedere un po' il mercato cosa decide o diciamo inizia questo ciclo semestrale nuovo e ci dà un po' di respiro oppure potrebbe fare un po' di finte ragazzi, è una situazione complicata, oggi andiamo a vedere un po' quali sono i livelli più importanti di supporto per quanto riguarda ETH quindi Ethereum, CRO e Bitcoin, poi vedremo anche Binance Coin quindi facciamo un po' un briefing di quelle che sono le altcoin più forti, vedremo anche Bitcoin, andiamo a vedere anche un po' secondo me solana ragazzi perché anche questa cripto insieme all'una ha retto di più questa fase di ribassio quindi potrebbero essere anche un po' migliori per il procedo ma prima di andare avanti iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, vabbè questo ormai ragazzi lo sapete mi date ancora mano con i pollicioni, con i mi piace ma poi volevo dirvi due cose allora uno è ringraziare pubblicamente Alessio ragazzi perché mi ha mandato questo regalo mi ha mandato un regalo bellissimo nella scorsa giornata, l'ho già mostrato sulla mia pagina di Twitter, ragazzi trovate sempre i link in descrizione dei miei social, eccola qui ragazzi questa è una moneta che ha 2000 anni con tanto di certificato, Alessio è un mio corsista iscritto anche alla mia Academy quindi mi ha fatto questo pensiero di Natale ragazzi con tanto di lettera, mi ha detto anche lo metterai, metterai questa moneta vicino al Bitcoin indoro perché da qui siamo partiti e qui stiamo arrivando 2000 anni di storia, grazie Alessio veramente di cuore l'Academy è una community, è quasi una famiglia ormai è diventata sono contentissimo di queste cose quindi grazie di cuore volevo farlo pubblicamente secondo annuncio poi passiamo a vedere i grafici e i corsi ragazzi di formazione sono ancora in trend al ribasso anche i corsi, eccolo qui ragazzi perché c'è lo scotto del 10% fino al 23 di dicembre e poi non ne faremo più almeno al momento così ci vorrà poi i mesi insomma del prossimo anno eccetera ma soprattutto è possibile anche che cambieranno i prezzi questo ve lo accenno ma in ogni caso se dovesse succedere una cosa del genere è poi vi avviso prima perché io sono sempre correttissimo in queste cose ma fino al 23 dicembre ragazzi tutti i corsi del sito Trading On hanno uno sconto del 10% qui trovate un po' tutto il programma soprattutto le oltre 4-500 recensioni che trovate anche su Trustpilot tutte 5 star quasi tutte ovviamente 5 star perché ovviamente non sono tutte 5 star perché abbiamo una media altissima ragazzi e soprattutto sono contentissimo di aver dato un contributo personale alla formazione di tanti trader che me li ritrovo anche in Academy che hanno avuto risultati stellari in quest'anno 2021 ragazzi questa è la mia più grande soddisfazione ovviamente anche perché i prezzi dei corsi sono molto bassi per questo tipo di formazione quindi non sono certamente a livelli tali per cui dovrebbero essere diciamo o per diciamo paragonate altri corsi quindi 23 dicembre scade questa promo e non ne facciamo più ragazzi quindi se volete la formazione volete formarvi in maniera corretta su un metodo togliendo la confusione dalla vostra testa soprattutto perché vedete cosa succede poi sui mercati quando si ci aspettano delle cose e poi non avviene questo è il modo migliore che conosco perché se ne conoscevo un altro non mi hai fatto un altro corso quindi questo l'ho fatto io ragazzi ed è il mio modo migliore va bene detto questo andiamo ai grafici ok ok partiamo da etiak ragazzi allora etiak la questione legata alla fase ribassista di ethereum è scaturita dalla questione legata a questo break una volta che il mercato ha breccato una giornata del 4 il minimo a 3.900 ha dichiarato tutto questo ciclo mensile ancorato al ribasso così è stato infatti nel momento in cui il break è avvenuto abbiamo visto una fase discendente del ciclo al ribasso è terminato non è terminato da un punto di vista ciclico ma poi aggiorniamo la ciclica in maniera più corretta la lunedì nel nostro video classico c'è ancora tanto tempo questo purtroppo non è un bene ragazzi perché c'è tanto tempo in quanto siamo a livello giornaliero intorno ai 21 giorni 21 giorni sono un po pochi per questo tipo di ciclo è vero ragazzi che il primo è stato da 37 quindi qui potrebbe diciamo accorciare perché è un ciclo ribassista però questo minimo probabilmente a 3 e 6 potrebbe non durare questa è la questione siamo vicini alla scadenza quindi quando ci sono questi punti di raccordo tra un ciclo e un altro succede molta volatilità molto movimento dei mercati e soprattutto questi dump pump and dump leggerini non troppo ampi che chiudono il ciclo e poi riparte a noi interessa il prossimo ciclo rialzista ragazzi quindi segnali rialzisti vanno tradati long almeno io così farò però in questo momento il mercato non ne ha dato quindi è inutile che andiamo a vedere anche il rimbalzo della scorsa giornata io in academy alle 2 di notte ho scritto un messaggio a tutti gli iscritti per dirvi questo è una chiamata short palese proprio cioè questa era il classico pump da shortare ragazzi io stesso ho fatto infatti queste operazioni ve le mostro eccole qui ragazzi sono tutte operazioni aperte l'altro giorno proprio sul sul pump ovviamente si parla solo di trading di uno due giorni quindi probabilmente le chiudo nella giornata di oggi perché questo è trading agli short sui mercati cripto io li odio proprio e li faccio solo ragazzi quando proprio mi chiamano mi dicono vabbè c'è questa propria una chiamata da trader insomma e ho fatto questo short sta andando abbastanza bene c'è anche una posizione long su eth di copertura così che diciamo bilanciava alcune posizioni e insomma ragazzi sto usando tra altro questo delta exchange da un mesetto ragazzi vi lascio il link in descrizione con un 20 per cento di bonus sul sul primo cap che andate inserire è piccolissimo fatto la recensione andate a vedere così capite anche di che cosa stiamo parlando quindi sono derivati questo exchange però lo sto provando mi piace soprattutto perché ha un funding praticamente bastissimo e quindi per fare queste cose e tenerle qualche giorno è perfetto quindi mi piace solo per quello allora andiamo a vedere invece la questione del supporto di eth supporto di eth che dobbiamo farlo coincidere con questa zona qui quindi 3000 e 6 circa è il primo supporto di eth che tecnicamente dovrebbe essere rotto se il ciclo mensile andrà in chiusura a sotto questo livello di supporto poi ci resta questa shadow qui 3 e 3 ragazzi 3000 e 3 probabilmente potremmo assistere se va tutto secondo teoria io spero ovviamente di no potremmo assistere a un break di questo livello e un arrivo proprio in questa zona se dovessimo appunto andare molto più in basso con la questione della chiusura del ciclo mensile andiamo a vedere bitcoin poi vediamo CRO e BNB allora per quanto riguarda il bitcoin questo è un ciclo settimanale lo vediamo un po' su basta scala quindi per fare un po' la differenza rispetto a quello che vedremo invece lunedì dove andiamo a vedere i cicli più piccoli qui la questione è lunga ragazzi allora vedete come la questione del ciclo semestrale può andare da una zona intorno ai 180 giorni quindi in scadenza tra pochissimo settimana prossima in pratica oppure allungare per un altro mese questo è quello che vedremo nei prossimi giorni quindi nelle prossime settimane in opening di quello che è la questione legata al nuovo anno però ragazzi ricordiamo che il mercato ha corso tanto e soprattutto come vi dicevo anche negli scorsi video la cosa più importante secondo me in questo momento era cercare di non scendere troppo perché i trend erano così si sta appoggiando su questa media mobile a livello settimanale che la media ha 54 quindi la media dell'anno ragazzi sotto questa media diventa un casino soprattutto se la candela settimanale va a breccare questa media la conferma è brutto ragazzi potrebbe chiudere proprio il ciclo semestrale facendo questo di solito i cicli vengono chiusi appunto così quindi lo vedremo però sicuramente non è una situazione florida ve ne ho già parlato il supporto e l'estensione se dovesse fare proprio un down importante quindi sotto anche il livello del 4 il supporto successivo è 40 mila dollari ragazzi questo è il livello che può raggiungere a livello di supporto proprio se dovesse breccare questa zona di minimo il 42 mila benissimo andiamo adesso a vedere invece CRO CRO che soffre anche CRO soffre rispetto anche agli altri vedremo anche magari un po' quelli che sono altri alla forza diciamo di altre cripto per esempio AVAX rispetto a bitcoin ragazzi vedete ve la faccio vedere già direttamente qui 15% più bitcoin perché AVAX ancora un trend rialzista però CRO quello che ha fatto è stato breccare questa media di nuovo stesso identico discorso ancora qui un pump fatto in maniera importante e poi però sfumato perché ha fatto il down quindi il break delle medie mobili poi il pump a pullback delle medie e poi è risiato il trend al ribasso ancora una volta questa chiamata short praticamente per eccellenza perché è proprio il classico la stessa cosa fatta ETH appunto l'altro ieri allora questo trend dove è diretto il primo livello di supporto è dato da questo minimo che è intorno a 0.47 USD e poi sotto abbiamo 0.41 poi se sprofonda sotto si scende parecchio ragazzi 0.30 quindi con semplicemente questa zona di più che supporto direi di leggera oscillazione che è una zona che il mercato potrebbe arrivarci solo proprio in caso di secondo me di veramente di crash importanti e poi fermarsi qui per oscillare quindi non è un vero supporto è un punto di equilibrio questo qui io spero che il mercato si fermi tra questa zona e questa zona quindi a 0.47 0.40 41 come livello di supporto per quanto riguarda il CRO ci sta per questo rialzo ad ascensore ci sta una fase di respiro poi bisognerà appunto vedere il da farsi a questo punto andiamo a vedere anche l'una ragazzi che è stata fortissima anche perché io l'ho portata vedete ancora qui è l'una è una delle pochissime coin che ho in short in questa posizione lasciate stare eth che è un long ragazzi è fatto apposta proprio per evitare danni se dovesse tutto invertire perché questo poi va in loss e quindi un po recupera eth quindi è fatto apposta non ho una copertura però vedete l'una e poi arweb che è negativa perché ha fatto un super candelone ma l'una soprattutto so che quella vi interessa di più tra le top è quella che è rimasta ancora in trend alla rialzo relativamente perché perché ha fatto questo balzo vedete si è fermata sopra queste medie però purtroppo anche nel caso di luna tecnicamente questa è una chiamata short ragazzi ve la dico proprio in diretta per quanto per un paio di giorni ovviamente non è una questione di old è una questione di trading quello che stiamo parlando qui quindi oggi è 17 di dicembre o cosa del genere durerebbe massimo fino appunto alla 20 ragazzi poi si segue il trend ovviamente quindi non potete fare questo tipo di operazioni pensandole da qui a due mesi assolutamente no queste sono operazioni di pochi giorni però questa è una chiamata short perché è il famoso abc quindi abc se dovesse fare una cosa del genere per questo sono entrato short anche sull'una in questo momento non sta performando e soprattutto ragazzi se dovesse superare questo livello si va in stop loss quindi l'operazione short eventuale deve essere annullata in questo momento luna è ancora forte potrebbe succedere appunto una fase di ribasso quantomeno se brecca questo livello e dovrebbe arrivare intorno a questa zona qui che poi è il famoso canale anche se qui dobbiamo eliminare il logaritmo per vederlo meglio il canale rialzista che è fatto in questo modo a parte i miei disegni che sono terribili quindi potrebbe fare una cosa del genere e ci sarebbe tranquillamente senza alcun problema quindi in questo momento attenzione a luna perché fino a quando non supera i 69 70 dollari potrebbe invertire il trend questa è la famosa chiamata short ovviamente luna è molto forte quindi se dovessimo assistere a un recupero di btc che dovrebbe farlo tra un paio di giorni secondo me luna continuerà al rialzo quindi va va bene ragazzi se volete provare questa operatività però avete visto anche su quello che io ho fatto è stata l'unica coin che è delle top che è in l'os proprio perché è forte quindi ricordatevi che è vero che è una chiamata short ma è anche vero che questa coin è molto forte quindi è meglio a volte andare a battere il su quelle già deboli ragazzi per fare questa operatività quindi ricordatevi non consigli finanziari ed è solo trading quindi se non avete la formazione per farlo assolutamente non fate queste cose andiamo a chiudere con bnb ok ragazzi allora bnb poi vi mostro anche solana che viene bella stessa ragazzi ok è la stessa di eth guardatela proprio in maniera molto semplice quindi bnb ha già raggiunto il suo livello di supporto sotto questo livello di supporto si va in questa zona qui quindi 450 potrebbe tranquillamente arrivarci se eth continua la sua fase di discesa quindi questo è un trend vedete questo è un trend short perfettamente ancorato quindi potremmo anche decidere di andare in short proprio su titoli che sono già in trend short senza cercare magari quelle che sono invece le coin più forti come luna si è vero che potrebbe perdere di più proprio perché luna parte da un punto più alto quindi però è una scommessa quindi c'è meno probabilità perché più forte e soprattutto se dovesse invertire il trend luna poi magari spara mentre le altre invece potrebbero metterci un po di tempo però anche bnb short quindi non se ne salva non si salva nemmeno bnb andiamo a vedere in definitiva anche solana così abbiamo visto diciamo tutte le le top quelle che sono più o meno le top come market cap anche solana vedete ragazzi anche qui questo era il famoso short chiamato e anche per questo io l'ho buttata dentro in short selling qui però vedete che anche solana è molto forte infatti è una percentuale di rendimento veramente bassissima rispetto alla alle altre proprio perché solana come luna è ancora più forte magari di altre e altre cripto valute ma a differenza di luna ha un trend delineato al ribasso mentre luna deve ancora confermarlo perché luna è qui o qui insomma se volete e quindi deve andare a fare questa fase solana invece ancora è già al ribasso come trend vedete quindi sta completando la sua fase questo è il livello di supporto che però ha già toccato il secondo solo se va a fare un nuovo minimo e scendere intorno ai 116 ai 116 ragazzi in concomitanza con un'eventuale chiusura da parte del semestrale di bitcoin e dth magari nei primi giorni di gennaio una cosa del genere potrebbe essere ghiotta come ingresso dovesse arrivarci in shadow perché no ma lo valuteremo perché bisogna valutare un po il quadro generale questa è la situazione cripto vi ho mostrato i supporti di brevissimo da qui alla prossima settimana lunedì facciamo l'approfondimento con la ciclica vedremo anche quelli che sono i dati macro che sta succedendo all'esempio 500 nasdaq e anche un po di dati on chain per riflettere perché no su come i dati on chain hanno influenza sui mercati da che punto di vista quindi tanto poco o solo di lungo periodo ne parliamo poi nel prossimo video ciao a tutti e buon weekend